Musica Buonasera a tutti amici all'ascolto e alla visione di Udinese TV. Questa sera in fuori tutto ci occupiamo di lavoro. Cerco lavoro, offro lavoro. Certamente gli annunci dei primi sono di gran lunga superiori a quelli dei secondi. Cioè c'è molta più gente che cerca un'occupazione rispetto a chi offre un posto di lavoro. I dati della disoccupazione ci dicono che è attestata nella nostra regione intorno all'8,1%. Ci sono punte di ben oltre il 20% fino a sforare il 30% in alcune fasce d'età. La cosiddetta disoccupazione giovanile. E oggi noi proveremo a scoprire che cosa si fa per ridurre queste percentuali. E soprattutto per mettere insieme la domanda e l'offerta. Per far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro. Perché ci sono dei casi in cui aziende specializzate in alcuni settori incontrano difficoltà nel reperire addetti per le loro produzioni, per le loro aziende. Si tratta di lavori specializzati e questo ci fa anche capire come ottenendo una specializzazione, come ottenendo una formazione ad hoc, si possa naturalmente con maggiore facilità trovare un posto di lavoro, un'occupazione. Cominciamo a vedere che cosa succede nel campo della innovazione e della tecnologia. Lo facciamo con David Zanirato che ha raccolto alcuni pareri. A te David. La nostra prima tappa nel viaggio alla scoperta di chi offre lavoro ma non trova professionalità adeguate arriva a Friuli Innovazione. Siamo con il direttore Fabio Feruglio e a lei chiediamo innanzitutto che cosa state cercando. Stiamo cercando informatici o meglio alcune delle imprese insediate nel nostro parco stanno cercando figure professionali con competenze informatiche. C'è grande difficoltà nel trovare queste competenze perché come sappiamo già in Europa entro il 2020 si prevede che mancheranno circa 800.000 persone con competenze digitali. L'informatica, ma il mondo digitale si sta espandendo rapidamente su diversi settori. Sappiamo di Industria 4.0 ma anche l'agricoltura digitale, la salute, la sanità e quant'altro. Purtroppo l'università e il sistema formativo in generale non riesce a fornire le competenze che servono. Voi avete fatto questo appello? Sono già arrivate le prime domande, le prime proposte? Sì, abbiamo fatto questo appello, ripeto, sollecitati dalle imprese che lavorano qui e anche da altre che fanno parte del nostro network. In Friuli Innovazione si è sviluppata una rete di imprese che offre servizi di ICT a grandi e medie imprese e che per crescere hanno bisogno di queste competenze. Abbiamo già cominciato dopo questi appelli che abbiamo trasmesso e che grazie ai media come voi ci consentono di dare ampia diffusione alla notizia, ha cominciato a ricevere qualche curriculum interessante. Ne avete valutati tanti anche negli anni, che cosa notate tra coloro che vengono da voi in cerca di un lavoro? Notiamo sempre di più che quello che riceviamo è diverso da quello che chiediamo e quindi continuiamo a ricevere curriculum di persone con delle lauree, delle competenze più di indirizzo umanistico rispetto a quelle delle cosiddette STEM, quindi delle materie, delle lauree in scienze, matematiche, ingegneria e con competenze tecnologiche. Ma per capire, è più un problema di un sistema di formazione che per tempo non ha saputo anticipare le richieste del mercato oppure di giovani che non si spingono a formarsi in questi settori? Credo che sia un po' entrambe le cose. Certamente questo, ahimè, il nostro Paese non ha spiccate capacità di pianificazione e di programmazione neanche sulla base di una scienza che ormai è esatta come la statistica e la demografia. Da un lato anche i giovani evidentemente sono meno propensi a lanciarsi su queste materie e quindi c'è questa differenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, sulla quale bisogna però intervenire rapidamente. Ma quali sono dunque queste ditte che cercano lavoratori, informatici in particolare, non li trovano? Abbiamo raggiunto il signor Romero che è il titolare della Infofactory, questa azienda nata all'interno di Friuli Innovazione. Spieghiamo ai nostri telespettatori quali figure professionali tecnicamente cercate. Allora, ci sono qui diverse aziende, non siamo solo noi, e le figure professionali che si cercano sono principalmente sviluppatori web, sia di front-end che di back-end, quindi che sappiano sviluppare applicazioni come si dice full stack, cioè sia dalla parte del browser che dalla parte del server. Le tecnologie sono diverse, quindi adesso non le elenchiamo tutte, ma diciamo che le aziende sono differenti e quindi le tecnologie che usano sono diverse. Diciamo che in generale, mentre fino a qualche anno fa si riusciva a contattare studenti dell'università, di informatico, di tecnologie web abbastanza facilmente, oggi è diventato un po' più difficile. E quindi, di fatto, queste figure sono molto richieste e, anzi, abbiamo addirittura altre aziende che ci chiedono se abbiamo contatti per i loro sviluppatori, non solo di front-end e di back-end, ma anche dello sviluppo di applicazioni mobile e Internet of Things. Quindi diciamo che è diventato più difficile riuscire a trovare delle persone e questo è un messaggio, secondo me, molto positivo per l'occupazione innanzitutto, ma poi anche per le scuole, per chi effettivamente esce dalle superiori, non sa magari esattamente che facoltà fare, beh, certamente facoltà di informatica e tecnologie web oggi danno lavoro di certo. Immagino vi si ponga anche il problema delle risorse che attualmente avete, che rischiano magari di essere strappate dai concorrenti. Beh, allora, in effetti, certamente ci sono offerte che possono arrivare, più che altro, diciamo, la problematica non è tanto quella di portarsi via le persone reciprocamente quanto quella di diffondere un messaggio verso i ragazzi che questa è l'opportunità di formarsi verso queste tecnologie e poi porta a un lavoro quasi certamente. Un lavoro naturalmente ben retribuito anche, viste le competenze richieste. Allora, in Italia gli stipendi non sono alti, quindi questa è un'altra problematica invece che abbiamo e quindi questo vuol dire che molti poi vengono formati dalle nostre università, riescono a formarsi ancora di più dal punto di vista professionale all'interno delle nostre aziende e poi magari guardano all'estero e quindi molti vanno via, vanno negli Stati Uniti o vanno a Londra. Un appello da imprenditore verso il sistema, il mondo della formazione, ma anche e soprattutto dei ragazzi perché forse anche lì il problema. Ma allora, il mondo della formazione non c'è nessun appello, nel senso che i ragazzi vengono comunque già formati bene dalle università, il problema non è tanto della formazione, il problema è della mancanza delle persone che poi vanno a formarsi alle università, quindi non ce ne sono a sufficienza. E dunque questo è uno dei settori in cui essere formati, avere una formazione specifica può aiutare senz'altro a trovare una occupazione che sia anche soddisfacente dal punto di vista sia economico ma anche rispetto a quello che si è prospettato per la propria vita in base agli studi, in base alle proprie passioni perché quando si parla poi di tecnologia e innovazione c'è anche alla base una passione che muove l'individuo verso alcuni studi e quindi una formazione specifica in quella direzione. Ci sono anche altri settori che danno la possibilità di poter offrire posti di lavoro in particolare ai giovani. In questo caso parliamo delle lingue, delle traduzioni. Ci sono alcune società che a livello internazionale offrono questo servizio, servizi di interpretariato c'è in tempo reale, come si suol dire, la traduzione in tempo reale durante un convegno, durante una manifestazione, traduzione di testi. Quindi c'è sicuramente in questo settore una grande richiesta in particolare guardando verso l'est e ci occupiamo proprio di questo nel prossimo intervento con Davide Zanirato. A te Davide. Tra le tante aziende che cercano figure professionali specifiche in Friuli Venezia Giulia c'è la Global Voice, uno dei gruppi più affermati a livello internazionale nel settore delle traduzioni, che cerca talenti e lo fa guardando proprio alla nostra regione. Abbiamo raggiunto via Skype a Londra Manuel Costa, che è il responsabile del mercato italiano per la Global Voice. Come mai state guardando alla nostra regione? Sì, allora innanzitutto vi ringrazio ecco di questa opportunità. Per rispondere ecco alla domanda siamo interessati alla vostra regione perché abbiamo diversi profili, già ecco parte del nostro team che collaborano con noi da anni, siamo molto contenti ecco dai nostri employee. quindi oltre a dei profili che lavorano all'interno della nostra azienda lavoriamo anche con diversi freelancer che provengono dalla vostra regione e dalle diverse università ecco che sono lì ecco dalle vostre parti. Sono bene tredici i posti vacanti ai quali appunto state cercando di far fronte. Sì, sì. La Global Voices è ormai una realtà affermata non solo a livello ecco nazionale ma a livello ecco mondiale direi. Il nostro ormai è un gruppo che continua a acquisire delle piccole medie realtà locali. Adesso ultimamente abbiamo acquisito un'altra agenzia di traduzione su UK, l'agenzia si chiama Gemini. Oltre a questa agenzia abbiamo anche acquisito l'anno scorso ecco un'altra azienda molto importante ecco la London Translations. Essendo un gruppo che cresce con un tasso che va dal 60 all'80% ecco su base annua, cerchiamo ecco sempre dei nuovi profili da includere ecco nel nostro team. soprattutto adesso abbiamo più ecco di 13 vacancies all'interno del nostro ufficio per coprire diverse aree, sì. Tra l'altro è un settore quello delle traduzioni che secondo le ultime statistiche richiederà nel futuro più prossimo e creerà tanti posti di lavoro? Assolutamente sì, assolutamente sì. È un settore in crescita. secondo le statistiche ecco il tasso di crescita è un tasso ecco per ciò che riguarda il mercato italiano stiamo parlando ecco di un tasso che va dall'8 ecco al 12% sì ovviamente oltre a un settore di riferimento per il futuro c'è anche una questione relativa all'IT perché stiamo investendo ecco tantissimo su ciò che riguarda le nuove tecnologie quindi siamo su due fronti un fronte ecco riguardando ovviamente il manpower e il fatto di accrescere il nostro team ma d'altra parte anche la parte relativa ecco all'information technology allo sviluppo informatico è sicuramente un qualcosa che teniamo sott'occhio ecco sul quale investiamo investiamo parecchio. Le aree alle quali riguarda il mondo delle traduzioni parlano di editoria, imprese, settore pubblico e organizzazioni no profit? Sì sì, queste sono delle aree nelle quali già disponiamo ecco di diversi clienti soprattutto anche nel settore pubblico ma non mi nascondo che lavoriamo in tantissimi settori soprattutto ecco settori come life science quindi il medico scientifico, il manufacturing, l'automotive anche il legal, il finance come gruppo siamo affermati in direi in tutti ecco i settori più importanti sia a livello italiano che a livello europeo ovviamente il nostro know-how, i nostri processi, il nostro modo ecco di lavorare ci ha messo ecco nella condizione di essere veramente il miglior partner linguistico irrespective quindi al di là del settore nel quale lavoriamo alla fine ovviamente è importante accrescere le proprie competenze in ogni singolo settore e poi da lì tra virgolette usare la stessa formula magica Quanti risponderanno al vostro appello? Che cosa dovranno fare poi per venire a lavorare con voi? dovranno trasferirsi e dove? Sì allora adesso la richiesta principale è nei nostri uffici ecco nel nostro headquarter diciamo dove si sviluppa gran parte ecco del nostro lavoro il nostro headquarter è Sua Sterling quindi stiamo parlando ecco in Scozia però diciamo che la gran parte delle vacancies aperte è relativamente a quella alla sede centrale ecco su ecco in Scozia adesso stiamo finalizzando ecco l'apertura di un'azienda in Italia la Global Voices SRL e sicuramente anche su questo fronte qui ci sarà ecco di questa sede a questa nuova azienda a sede a Milano sicuramente anche su questo fronte necessiteremo ecco di trovare ecco dei nuovi profili che lavorino anche su questa sede. Per concludere su questo fronte stiamo inoltre discutendo ecco diverse collaborazioni quindi stiamo acquisendo ecco un'azienda, un'agenzia di traduzione ecco in toto in Italia su questo non mi posso sbilanciare però ovviamente le opportunità ci saranno anche per ciò che riguarda questa nuova agenzia che farà parte del gruppo Global Voices Grazie David, abbiamo dunque fatto un po' un'analisi di quelli che sono due settori particolari non definibili di nicchia ma sicuramente due settori quello della tecnologia, dell'innovazione, quello delle lingue e quindi delle traduzioni simultanee non solo che possono offrire sicuramente delle buone opportunità di lavoro a chi è formato ed è preparato in quelle direzioni ma adesso vediamo invece per quanto riguarda la situazione dei lavori più tradizionali abbiamo voluto ascoltare il parere della gente con un'inchiestina qui nella nostra città per capire com'è la situazione in questo momento quali sono le aspettative di chi cerca lavoro in questo momento nel 2017 nella nostra regione Per renderci conto di persone, di quanta sofferenza, di quanta difficoltà ci sia nelle persone friulane a trovare un posto di lavoro, un'occupazione siamo venuti qui stamattina fuori il centro per l'impiego di Udine in Viale Duodo abbiamo visto davvero tante persone di tutte le fasce d'età, di ogni estrazione sociale giovani, anziani, persone immigrate, stranieri davvero tante facce di appunto cittadini alla ricerca di un posto di lavoro nello scorrere le offerte che vengono presentate qui al centro per l'impiego c'è una certa difficoltà a far parlare soprattutto le persone più avanti con gli anni mentre quelli che appunto hanno accettato di dirci la loro esperienza al microfono sono soprattutto giovani andiamo ad ascoltarli Tra i tanti che sono qui al centro per l'impiego di Udine c'è Veronica ha 23 anni, che lavoro stai cercando? Uno a contatto con le persone, che mi possa far crescere e possa comunque aumentare le mie caratteristiche diciamo verso comunque le persone, il contatto col pubblico E' da tanto che cerchi lavoro? No, tantissimo perché dove sono adesso comunque è calato un po' e quindi vorrei una cosa che mi permetta di essere un po' più autonoma e sì, insomma fare le cose che tutti quanti vorremmo fare C'è tanta gente qui in attesa un sintomo che la disoccupazione esiste ed è ancora forte Sì, esatto, infatti sono tantissimi e stiamo cercando appunto anche noi di capire come dobbiamo essere smistati per chi cerca lavoro, chi vuole la disoccupazione, tutte queste varianti Il servizio che viene offerto come lo giudichi? Adesso è un po' confusionario, in realtà è anche un po' disorganizzato magari con più personale che aiuti a capire dove andare, cosa cercare che comunque anche per loro sia un impiego di tempo migliore e anche per noi che comunque stiamo cercando di migliorare la nostra situazione Martino, 22 anni e anche tu in cerca di un'occupazione? Esatto, sto cercando lavoro da qualche mese Spero di trovare qualche impiego per iniziare la mia attività lavorativa Cos'hai studiato? Io ho ragioneria a Cividale del Friuli Ho frequentato l'università per qualche anno però poi ho deciso di ritirarmi e adesso sono in cerca di... E tanto che cerchi? Qualche mesetto, sì Fai fatica? Hai già provato qualche offerta? Hai presentato qualche curriculum? No, sicuramente ho presentato curriculum e ho fatto anche qualche colloquio però non sono andati molto bene adesso speriamo in futuro di trovare qualcosa Il servizio che viene erogato da questi centri, secondo te è soddisfacente? Ci sono opportunità? Penso di sì, penso che trovare lavoro con queste agenzie sia molto più facile che cercare un lavoro da soli Da giovane immagino anche tanti tuoi coetanei sono nella stessa tua situazione Sì, ho molti amici che cercano lavoro alcuni sono stati un po' più fortunati di me altri finiranno gli studi e penso che avranno... spero che avranno più fortuna di me Anche Davide, 23 anni, è appena uscito dal centro per l'impiego di Udine è da tanto che stai cercando lavoro? Eh, da parecchio, da parecchio, sì, sì, sì Com'è la situazione? Abbiamo visto tantissime persone di tutta l'età Eh, bisogna fare sicuramente una revisione del sistema perché è un po' lento non hanno i giusti contatti per me con le aziende bisogna fare anche dei miglioramenti nelle scuole anche per fare dei collegamenti direttamente con le aziende io infatti mi sono trovato lavoro stagionale, no? Da solo Certo, non solo questa, anche le agenzie private non è che siano queste grandi però comunque un centro di collocamento pubblico dovrebbe fare qualcosina in più Che formazione hai tu e che lavoro in particolare cerchi? Io ho una formazione commerciale però ho trovato una gelateria a Lignano perché ho fatto anche il corso di gelataio E sai la tua prima stagione estiva? Sì, prima stagione Ti aspetti, diciamo, un buon lavoro, uno stipendio decoroso? Sì, sì, decoroso, sì a Lignano sicuramente è calato tanto il lavoro però mi aspetto uno stipendio decoroso e di lavorare bene Habib è algerino da ben 27 anni in Italia da quanto stai cercando lavoro? Io adesso del 2009 perché ero infortunio e poi dopo l'infortunio ho lavorato ho lavorato sei mesi è caduto anche un malato non è che è fatto apposta che io sono dottore, avvocato non può dire bugie adesso sto cercando di nuovo lavoro ho perso gli endi che non può anche mangiare è uscita la legge che dicono per fare la bocca e ci vuole 65 anni io ho 26 anni già perso allora io non mangio mai adesso come vado avanti? Soprattutto io grazie a loro loro sto facendo il loro lavoro e invece ci sono tante gente diciamo che fanno la furbezza che hanno lavoro e non fanno lavoro bene e quelli che sono furi diciamo un giro come me che hanno due figli tre figli e soffrono così io spero che diciamo che il governo aiutano anche aiutano tutti non gli dicono il pane è solo per gli immigrati io non gli dico il pane è anche per l'italiano il pane è questo qua come dice Gesù Cristo pane, acqua, pace io così io voglio pane, acqua, pace un lavoro piccoletto che ho un bambino per mantenerlo e pace ho fatto anche la domanda adesso della Casa Popolare del 2010 del 2012 sto fermo ok sono separato mi date una casa singola sono singolo così io faccio crescere il mio figlio e così la vita va avanti non lo so com'è io tengo solo il Signore e voi si può aiutarti a aiutarmi se no ho assenza io perché Dio ha creato tutto il mondo ha creato coppia solo la pazienza creato da sola se hai pazienza puoi fare tutto io grazie a Dio solo la pazienza se anche trovo acqua, pane porto il mio figlio acqua, pane un giocato di un euro e dice papà grazie mi ha portato mi ha portato un gioco io quello che hanno passato diciamo a parte politica immigrati anche il popolo italiano e regione siamo tanti immigrati va bene ok io quando è arrivato in Italia ho lavorato ho pagato tassi ho fatto tutto è diversa adesso Italia caccia sordi e non entra sordi quello è il problema allora noi dobbiamo fare una cosa buona pulita una pagina nuova che lavorano tutti quanti come dico io sempre se ero io preso dall'Italia come faccio? lavorare mangi non lavori non mangi non per esempio tu entri timbrare e vai a bere caffè qua e lì e la coppa sempre di immigrati quando parlano di immigrati tutti parlano è quello il problema se è immigrato vedi l'italiano lavorare allora tu devi segnarmi mi dicono no 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 è loro che hanno segnato la furbezza allora coppa da loro sto soffrendo io per 17 anni che ho lavorato ed eccoci di nuovo in studio adesso invece vogliamo aprire un'altra parentesi quella sul lavoro interinale e cioè su quelle agenzie che permettono di accedere al mondo del lavoro un lavoro però occasionale saltuario soprattutto ai giovani mettono insieme in questo caso la domanda di chi cerca del personale per un limitato periodo di tempo spesso addirittura soltanto per poche ore in una giornata e chi cerca un'occupazione di questo tipo che permette comunque di iniziare a muoversi nel mercato del lavoro di guadagnare qualcosina in particolare i giovani che riescono in questo modo a coniugare anche le esigenze di studio con la necessità di mantenersi anche agli studi e di comunque sentirsi realizzati dal punto di vista lavorativo anche se soltanto in parte andiamo quindi a scoprire con Davide Zanirato che cosa è il mondo del lavoro interinale siamo venuti siamo venuti a trovare Raffaella Caprioglio che è la presidente di Umana uno dei più grandi gruppi in Italia che si occupa appunto di mettere in contatto da parte del mondo delle imprese le loro richieste e appunto i lavoratori che potrebbero venire in loro aiuto qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia attualmente? Attualmente qui in Friuli nel primo trimestre abbiamo visto una crescita delle richieste da parte delle imprese e questo è positivo perché noi agenzie anticipiamo sempre quelli che sono i fenomeni e credo che questo sia un dato importante dal punto di vista più generale Quali sono le professionalità più richieste dalle imprese del Friuli? Le imprese del Friuli sono a prevalenza manifatturiere sicuramente molti periti ingegneri persone del mondo IT in quanto con l'evoluzione dell'industria 4.0 la competenza cosiddetta informatica viene richiesta un po' a tutti i livelli Settori che appunto come segnalava sono presenti hanno insomma segnali di timida ripresa? Più che settori direi che ci sono aziende aziende perché come è stato nel periodo più buio della crisi c'erano aziende che sono sempre andate molto bene e aziende che hanno stentato così la ripresa è più legata più che ai settori è legato a quanto le imprese hanno saputo innovare C'è difficoltà a trovare questi profili richiesti? sicuramente c'è difficoltà a trovare i profili perché noi cerchiamo di rispondere ai bisogni delle singole aziende possiamo dire che ciascuna azienda ha in qualche modo alzato il paletto rispetto alle esigenze però noi capiamo che per le aziende è molto importante sicuramente la competenza tecnica che viene data per scontata sono sempre più importanti le cosiddette competenze trasversali soft skills perché oggi sempre di più le persone devono realmente saper lavorare in squadra sapersi relazionare con gli altri e quindi noi lavoriamo molto per inserire nell'azienda le persone più giuste per quell'azienda che è fondamentale quando arrivano da voi i lavoratori che si candidano appunto a questi posti di lavoro come li trovate che curriculum portano ci sono difficoltà appunto da parte loro nel presentarsi al meglio devo dire che presentarsi nel mondo del lavoro è una competenza noi con tutti gli interventi che facciamo anche a livello universitario DTS aiutiamo anche i ragazzi a presentarsi però poi di fatto il lavoro quotidiano che fanno i colleghi nelle nostre 127 filiali di cui 13 in Friuli è importantissimo perché danno una mano a chi si presenta a comprendere che spesso il primo lavoro che vogliono fare non sarà esattamente il primo che troveranno però anche abituarsi a entrare nel mondo del lavoro significa conoscere meglio ciò che si sa fare e abituarsi al mondo del lavoro che è una competenza in più Che tipologie di contratti vengono offerti da queste imprese sappiamo di vivere in un periodo di diverse evoluzioni per quanto riguarda la contrattualistica Noi ci occupiamo di lavoro temporaneo somministrazione di lavoro a termine e a tempo indeterminato il che significa che le persone sono da noi assunte e retribuite come se fossero assunte direttamente dall'azienda quindi questi sono i contratti di cui noi ci occupiamo oltre all'apprendistato che è anche in somministrazione poi è chiaro che purtroppo non sempre ci sono forme regolari però secondo a mio parere le aziende sono molto cresciute da questo punto di vista e si sono rese conto che una buona gestione corretta delle persone comunque paga Un'ultima battuta a livello normativo da esperti protagonisti del settore vi sentite di segnalare alcune possibili migliorie per quanto riguarda appunto le normative legate al mondo del lavoro Credo che sia stato fatto molto io penso che bisognerebbe che le aziende facessero attenzione sull'utilizzo improprio degli appalti che spesso dietro un apparente risparmio riservano poi delle sorprese perché non è tanto un buon contratto di appalto che i migliori studi legali sicuramente sanno fare bene ma come viene gestito e come viene gestito non sempre controllabile in azienda quindi noi ad esempio proponiamo lo strumento dello staff leasing che è un'alternativa perfetta per risolvere lo stesso problema Grazie David e dunque adesso è il momento di arrivare a quelli che sono i provvedimenti da parte delle istituzioni è chiaro che le nostre istituzioni in questo caso parliamo della regione Friuli-Venezia-Giulia hanno l'obbligo hanno il dovere di favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte in particolare ripetiamolo dei giovani ma anche di chi è in difficoltà meno giovane ha perso l'occupazione per vari motivi e quindi va ricollocato per quanto riguarda i giovani nello specifico la regione ha lanciato nei giorni scorsi una legge la legge attiva giovani che prevede una serie di investimenti importanti per dare una possibilità ai giovani del Friuli-Venezia-Giulia di trovare una collocazione quindi anche alle aziende di poter trovare una forza lavoro con delle agevolazioni dal punto di vista fiscale dal punto di vista previdenziale che permettono dunque di poter mettere insieme anche in questo caso domanda e offerta vediamo Presidente oggi in aula al Consiglio regionale è stata approvata la legge attiva giovani sì un risultato davvero molto importante un risultato importante che mette a disposizione dei nostri giovani uno strumento in più per cercare di riqualificarsi e trovare lavoro stiamo parlando soprattutto di quei ragazzi che non vengono già interessati dagli strumenti ordinari come i tirocini formativi o gli stagi oppure contratti a tempo determinato attraverso la garanzia giovani questi sono ragazzi che possono avere maggiori difficoltà per una disoccupazione cronica o per una qualificazione che devono migliorare quindi parliamo a questi ragazzi e cerchiamo davvero di tirarli fuori casa per dare loro la possibilità di un lavoro in più abbiamo previsto nell'attiva giovani anche lo strumento per i cosiddetti voucheristi intensivi è vero che lo strumento è stato abolito a livello nazionale ma a maggior ragione adesso serve poter intervenire in quei casi nei quali appunto il voucher veniva utilizzato in modo intensivo e quindi permettere stabilizzazioni e regolarizzazioni di rapporti attraverso anche un incentivo regionale è stata approvata al contempo anche una mozione che chiede di riempire il vuoto lasciato dalla aborrogazione dei voucher sì oggettivamente noi dobbiamo creare le condizioni perché il lavoro cosiddetto occasionale il vero lavoro occasionale i cosiddetti lavoretti che prima riguardavano solo l'agricoltura o il lavoro domestico possano trovare in qualche modo un riconoscimento o anche una regolarizzazione l'alternativa rischia di essere il lavoro sommerso chiaramente non possiamo permettercelo per cui chiediamo al governo e la giunta si è impegnata in questo senso di trovare strumenti che possano regolamentare il lavoro occasionale anche ad esempio il lavoro a chiamata però con semplificazioni che permettano ovviamente di mantenere forti i controlli ma allo stesso tempo di dare possibilità ai lavoratori e alle imprese di avere strumenti utilizzabili grazie grazie david quindi abbiamo ascoltato anche le parole della presidente debora serracchiani noi speriamo di aver fatto un po' di chiarezza in questo settore che è un settore davvero molto dedicato nel nostro piccolo come sempre cerchiamo di ascoltare tutte le campagne oggi le abbiamo fatto sentendo chi offre lavoro come nel caso dell'innovazione della tecnologia del settore delle traduzioni delle lingue quindi abbiamo ascoltato la gente comune che cerca invece un'occupazione anche la più tradizionale perché in questo momento non ha un posto di lavoro abbiamo provato a capire quali sono i meccanismi del lavoro interinale ma anche delle agevolazioni che arrivano dal pubblico sia per chi cerca lavoro che per le aziende che invece hanno bisogno di addetti e magari in molti casi non riescono a reperire forza lavoro sul mercato del nostro territorio vi ringrazio per averci seguito buon proseguimento con Udinese TV ci rivediamo la prossima settimana arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.